Avvicinare i servizi sanitari ai cittadini e sensibilizzare verso controlli preventivi che possono salvare la vita. Con questi propositi parte a stanza la campagna Ci prendiamo cura di te. Nello specifico stanno per partire screening per la prevenzione delle patologie oncologiche della cervice uterina. L'iniziativa promossa dal Comune con il Dipartimento Sanità Pubblica dell'Università Federico II di Napoli è rivolta alle donne in età compresa tra i 25 e i 64 anni. Presso la saletta medica del centro polifunzionale al piano terra dello stabile nella piazzetta Via Reciorceri, personale sanitario effettuerà i controlli medici sulla base di un calendario che sarà stabilito in seguito alle prenotazioni. Tutte le donne di sansa dell'età interessata sono quindi invitate a recarsi presso il comando della Polizia Municipale per perfezionare l'adesione all'attività di screening e la prenotazione. Una diagnosi precoce e tempestiva può consentire ai medici di adottare terapie efficaci e salvare vite. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini sansesi in materia di controlli e per aiutare negli esami diagnostici preventivi, il Comune ha quindi attivato la campagna Ci prendiamo cura di te, un progetto di grande valenza al fine della prevenzione e della sensibilizzazione a prendersi cura di se stessi.